Ma cosa? Ma chi è questo? E perché io ho un'amicizia di uno così? Questo è per forza il mio abbonato, io ho fatto la richiesta di amicizia solo agli abbonati, si vede che è qualcuno che sicuramente ha cambiato nome di io. No, adesso sono proprio curioso, ma... Ciao bot, metti 1v1, nabbo, siamo scarso. Ma chi sei? Ma sei un mio abbonato, di sicuro. Come hai la mia amicizia? Vai, metti creativa, bot. Ma perché? Ma cosa vuoi? Dovevo registrare un video adesso, cosa vuoi? Siamo scarso, metti creativa, vai vai, parliamo di... Dimmi un solo motivo per cui dovrei sfidarti, scusami. Sei il palle? Ma figurati dai, secondo me sei scarsissimo, sono sicuro che si chiama un player a caso degli amici che ho online. No, abbastanza forte, neanche uno dei miei pro players più forti, sono sicuro che ti fa il culo a strisce. Vedremo, vedremo. No, guarda, non chiamo neanche una ragazza, chiamo un maschio che ti fa un culo a strisce. Oi Joe, mi senti? Questo sarebbe il tuo pro player? Cosa è successo? Certo, è un mio abbonato sicuramente, o almeno lo era. Oh, ma perché ti sei messo sto nome intanto? Perché sei un bot. No, cosa c'entra? Cioè tu cambi il tuo nome di Fortnite solo per mettere questo nome qua. Sì. Ma che senso ha? Joe, gli dai una lezione? Se ti batte, e non credo proprio, e sei forte, dovrò sfidarlo io. Non perdo tempo a sfidarlo se non riesci a fare neanche te. Hai tempo. Hai tempo. È una bella lezione, sì. No, perché adesso sono proprio curioso. Adesso andiamo proprio a vedere cosa sei capace di fare. E te lo dico, se perdi ti tolgo dagli amici, eh, sia chiaro. Non me ne frega niente se sei abbonato o no. Una roba del genere è una mancanza di rispetto. Adesso vediamo proprio cosa sapete fare. Oh, sto aspettando Octify schifo, ma sono già sicuro, già sicuro che farà lui schifo, altro che. Cioè, Joe è un giocatore veramente forte. Ma guarda come si muove, ma non hai proprio la coniezione del gioco. Voglio però, Joe ti ha fatto 100 danni, Dio. Eh, ma lo sto trollando, ero fermo. Scarzo, scarzo. Vogliamo un po'. 1-0 per Joe. Adesso cosa dici? Adesso cosa dici, eh, Octify? Scusa le hack, usa le hack. Sì, sì. Mi ero pure fermato davanti a te, mi hai stolto solo 100, ma sei proprio scato. E iniziamo con le scuse, già, iniziamo con le scuse. Ma che scuse, scuse, è verità. Guardate come gioca a Joe, raga. Come i build alla scala. Adesso iniziamo anche con le scuse da parte tua, Joe. No, è vero, vecchio, perché è un po' pessimo. Bot, bot. Ma cosa vuoi? Ma vai a lavorare. 140! Boia. Bot, bot. Culo, qua c'è stato un culo, veramente. È stato un culo assurdo. Qua c'è stato l'automira da play. Sì, veramente, veramente. È l'automira dei pad player questa. Tutta skill. Si vede che sei da pad con l'automira. Guarda, adesso sto aspettando sto scarso. Ma dove vuole andare? Ma guarda, ma che razza di mimetica usi alle armi? Quella gelatinosa. Come un pappamolle che sei tu. Bot, bot, bot. Non sei a livello. Joe, ma cosa stai facendo? Joe, due a uno. Gli ne faccio vincere un po'. Gli ne faccio vincere un po'. Ma, oh, fai il bravo. Fai il serio, Dio. Che qua poi mi fai paura. Gli ne faccio vincere un po'. Non è a livello. È troppo scarso. Ma stai zitto. Dove che mai faccio un altro. Ma cosa vuoi? Sono sicuro che ti straccio di brutto. Non entri mica nel team. Bot, bot. Joe. Joe, smettila di fare ste robe. Ok, adesso gioco serio. 3 a 1. Basta regalargli le partite. Mi sto divertendo perché mi piace sentirlo urlare. Ma ci sono 200. Ma cosa vuoi? 200 di ping semmai. Di ping. Sì, perché mi stai addossando. Sì, sì. È perché non sei iscritta alla pura fibra italiana. Guarda che spam di AR. Sei il nuovo gnagna qua. Il nuovo gnagna sei. Giochiamo. 40 di danno gli hai fatto. Dove sono finiti tutti quei 200? Ti ha distrutto. Distrutto. Joe, questo è. No, no, no. Questo è. Semplicemente mi sono messo a te. Non ci sto trovando adesso. Lo distruggi, Joe. Aprilo. Aprilo. Devastalo. È uno scarso. È uno scarso. 25. Vabbè, dai. Comunque. È pur sempre una hit. È pur sempre una hit. Cosa fa? 80. 80. Mi sto tirando nemmeno. Oh, piccolate. Abbonate. 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 Questo è. Questo è il mio giocatore. Questo è il mio giocatore. Ha avuto un po' scarico. Sì. E dovevi ricaricarlo allora. Stai attento. Ti ho regalato quei tre round. Non te ne regalo più adesso. Sì, esatto. Aprilo. Devastalo. Che così non devo neanche giocarci io. Ma se devo dirti la verità, mi ha un po' deluso. Non so cosa ne pensate voi. Mi ha un po' deluso questo Octify. Tipo. Mi aspettavo un giocatore un po' più forte. Soprattutto se dice a me che faccio schifo, sono sicuro di stracciarlo anch'io. Guardalo. Che salta a caso senza buildare. Un abbo. Un abbo. Ma se l'hai usato solo tu fino ad adesso. Ma non l'hai usato Giù una R. Non è vero. Non è vero. Falsa testimonianza è questa. È scarsa. Guarda. Ma cosa fa? Mangiate il petto Giù dai. Non regalargli tutta questa roba. Guardalo, guardalo. Devastante. Quattro a tre. Di cui tre regalate. Regalate. No raga. Fa schifo. Mi aspettavo di più. Cioè dai. Ma cosa vuoi fare? C'è un bot. Sì sono un bot vecchio. Trenta. Altri trenta. Vediamo un po'. Eh. Perché. Eh. Qua forse devi farvi dei scendini. Cento di danno. È finita. È finita qua. È finita qua. La sfida ormai è chiusa. C'è scarso. Cinque a tre. Di cui tre regalate. A casa. A casa. A casa. A casa. A casa. Ti ho quittato. Perché? Oh ma cosa fai qui ti dio. Sì sì. Tanto uno scarso questo. Vuoi vedere in pubblica? E mi vuoi giocare con lui. Ha avuto la tua fortuna. Oh ti ha proprio distrutto. Cioè veramente. Io mi aspettavo anche una roba seria. Invece veramente. Mi fa giocare con lui solo perché sei scarso. Sì sì. Mi fa giocare con lui solo perché non hai coraggio. Io ti straccerei. Ma cosa vuoi? Ma non è vero niente. Sì sì. Oh Gio lo straccio o no secondo te? Sì andiamo a vedere. Palese. Ma sono proprio curioso adesso di vedere. Non te lo saresti neanche meritato questo 1v1. No veramente non te lo sei meritato. Cioè se addirittura Gio ti ha fatto il cu... Beh vabbè più è forte. Stavo laggiando. Esatto. Ah per fortuna non so. Adesso ti apro. Guarda hai il lutto aggiuntivo. Che scarso. No. No occhi non fare così scarso. Se è sbobbillare. Che scarso. Disfrutto. Che scarso. Con 4 di vita. Scarso come sono. Senza riscaldamento né niente. Aperto e silenzio. Avevi due pesci. Avevi due pesci dai. Non le ho neanche usati. Non ne ho usato neanche uno a differenza tua. Stai buono. Sì sì. E gioca pure poco a differenza tua. Sì esatto. Che sarai un nerd tutto il tempo su Fortnite. Beggini sto a R. Il tuo proteger mi dossa pure. Sto loggando. Guarda guarda. No. Incredibile questa. È solo che ti ho fatto 94 di danno in headshot praticamente e non stai buono. Sì ma il pompa è penoso. Io li facevo 25 e 30. Vabbè vabbè. Tranqui tranqui. Se ne va 5 sì. Se ne va 5. Beh. Sì sì. 1 a 1. Non è che esatto. Non è che tu avessi chissà che azioni. Mi hai beccato. Guarda 30 di danno. Guarda che scarso che sei. Cioè mi vergogno. Non ho mai aspettato una persona così scarsa. Distrutto. Che scarso. Distrutto. Si sono 2 a 1. Regali sto i colpi. Guarda come entro. Guarda. 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 Distrutto. Che scarso. Che scarso. E viene a dire che io sono scarso. Distrutto. 3 a 1. Arriviamo a 5 ed è finita qua. E ti rimuovo l'amicizia e non ti voglio più vedere in vita mia. Cancellato dall'esistenza. Tanto dunque io questa. Eh infatti vedo. 30. No. Oh. Hai avuto un culo assurdo. Hai avuto un culo assurdo. Assurdo. Sì sì. Dico tutti così. Mamma mia. Me la sono giocata io male qua. Uccidilo perché non lo voglio più aspettare. Sì sì. Veramente. Veramente. Cioè non riesco proprio a spettare. È proprio più scarso. Siete 2 a 2. 3 a 2. 3 a 2. Non c'è due round e vai a casa. Va a casa anche prima. Uh uh uh. Guarda un po'. Cosa? Cosa? Non ho capito. No. No no no. Aspetta. No. Avevo il profilo del mouse. Ho sbagliato. Non buildavo le piramidi. Dio. No. Mi dispiace. Vabbè tanto distraccio lo stesso. Scusami Joe se adesso ti devo far aspettare sto bot. Ma veramente ho il profilo sbagliato. Mi sto stracciando. Ma stai buono. Guardo. Vai. Faglio il culo perché stai allaffimando i miei occhi dalla vergogna. Bot. Non sei a livello dai. Distrutto. Ma non hai neanche visto dove ero. Sì veramente. Ma da dietro cosa? Che tiro davanti. Ma cosa da dietro? Sì sì. Avevamo smetto un player decente. Adesso non mandiamo a casa. Che finto. 83. Scusa. Guarda qua. Aimbo. Aimbo. Ma aimbo. Basta. Basta. Finisce proprio qua. Ti reporto. Però adesso devi dirmi il tuo nome. Il tuo nome da scarso. Che almeno so come chiamarti. Così capisco che abbonato sei. Te lo dico solo se faremo delle pubbliche. Perché sei lo scarso bot. Vuoi vederti in pubblica. Ma che dici Joe? Sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Io sono veramente curioso di vedere quanto è scarso anche in pubblica. 5.000 like. 5.000 like? Vabbè. 5.000 like e andremo anche in pubblica. Il mio nome è Dempig. Ricordatelo perché sarà la tua rovina. Addio bot. Ma guarda. Ma che gente è? Mamma mia. Ma che problema. Se arriviamo a 5.000 like sicuramente lo sfido. Lo sfideremo in pubblica. Ma tanto so già che è scarso.